La cosa interessante è che siamo riusciti a formare un programma che non è soltanto un programma dedicato all'effimero di una mostra, ma la mostra sarà assolutamente cruciale per far capire quello che avvenne a Firenze e nello stesso tempo dall'istituzione e dalle mostre si partirà in percorsi dove a essere privilegiata sarà la didattica, ossia la volontà di far conoscere ai giovani tutto quello che è capitato ai Firenze in quegli anni e il tutto poi avrà proprio dei corrispettivi in quelli che nell'Ottocento si chiamavano le arti sorelle, la parola, la musica, la poesia, i percorsi cittadini, i giardini, l'archeologia, cioè tutto quello che costituì in un momento cruciale per la storia della nostra città l'immagine che verrà esportata all'estero e la presenza stessa internazionale degli americani e degli inglesi sarà parte integrante di questa importantissima messa a fuoco che ci darà di Firenze un'immagine non più convenzionale, anche se altamente convenzionale, della Firenze medievale rinascimentale, ma finalmente lo strato ottocentesco così importante, così aperto verso il futuro.